Serviva una vittoria a Grifoni per sperare nella Serie A diretta. Alla fine tre punti sono arrivati, ma stante la vittoria dell'Audax Sant'Angelo contro i corregionali della Gaccia Perugia, la Serie A deve passare con la coda dei play-off. Masticamaro il Cerretodesi, che con questa sconfitta retrocede in C1 la cronaca. Partono bene gli ospiti, direttamente da rimessa laterale arriva il vantaggio dei marchigiani con Leite, che batte Stoppini per l'1-0 Cerreto. Ma poco dopo è capitana Angelucci di Mancino a ristabilire la parità per gli uomini di mister Picchietti. Metelli ci prova allora dal versante sinistro, conclusione di poco alato, e poi è la traversa a negargli la gioia del gol. All'Uni Sant'Antoni è in vena, ma il gol gli viene negato in bello stile dall'estremo difensore marchigiano. Sorpasso rosso-blu a metà frazione con Giorgetti che deposita in rete una mischia in area a seguito di un calcio di punizione. 2-1 Grifoni. Ci prova allora l'ex Carlo Pio per i marchigiani, ma Stoppini è attento e sventa il pericolo. Ad inizio ripresa, meglio gli ospiti che pareggiano i conti con Da Silva per il 2-2 parziale. Giallo poco dopo in area con Sakura, che con un piede sposta la porta e con l'altro deposita la sfera oltre la linea. Per il direttore di gara è tutto regolare e il Cerreto si porta avanti di uno. Angelucci sull'auto sinistro si libera per il tiro e la sfera impatta la traversa. E allora il Cerreto ne approfitta con Leite che di destro mette in rete il punto del doppio vantaggio. Allora sale in cattedra e il fantasista all'Uni Sant'Antoni che di tocco mette alle spalle del portiere ospite e accorcia le distanze 4-3. Premono ancora il rosso-blu alla ricerca del pari, ma la sfortuna e i legni colpiti la fanno da padrone. Ma il pari arriva poco dopo, conclusione di Achimi, deviata, che si inzacca alle spalle del portiere 4-4. Leite, sempre lui per gli ospiti, conclude in bello stile e batte Stoppini per il vantaggio ospite 5-4. I Grifoni non mollano mai, infatti quasi allo scadere all'Uni Sant'Antoni di destro in bello stile mette in rete per il pareggio rosso-blu e proprio sul filo della sirena lo stesso all'Uni Sant'Antoni sancisce la vittoria dei Grifoni per 6-5, condannando inesorabilmente il Cerreto desi alla retrocessione in C1. Sabato prossimo i Grifoni tornano in campo per i play-off sul difficile palazzetto di Recanati.